Sempre più caldo il clima pre-elettorale a Isernia, la divisione in due tronconi del centro-destra è una scelta politicamente suicida e agevola sicuramente il candidato del centro-sinistra. Lo ha detto l'ex senatore Ulisse Di Giacomo, che parla di una strategia di chi già vuol decidere l'esito delle prossime regionali. Intanto questa mattina la coalizione che sostiene Gabriele Melogli ha presentato alla stampa il suo candidato sindaco che ha parlato di sfruttare al meglio i fondi europei. Questa è una grande occasione per la città di Isernia perché praticamente verranno sicuramente stanziati dei fondi però bisogna tenere presente che saranno gli unici fondi che verranno nei prossimi anni cioè i fondi europei, cioè i trasferimenti statali non ce ne saranno più, verranno direttamente i fondi europei per poter realizzare progetti che siano compatibili con quelle che sono le esigenze e le richieste occorre anche in questo caso il personale, se no non c'è niente da fare. Noi riteniamo di aver puntato giustamente sul turismo, sull'ambiente, sulle infrastrutture e sull'università. Dico l'ambiente perché noi abbiamo già progettato all'epoca due parchi, il parco del Fiume Sordo e il parco del Fiume Carbino avevamo immaginato anche il parco della Nunzatella e anche il parco del Paleolitico. Questi quattro parchi possono essere oggi realizzati con i fondi europei perché siamo in matiera ambientale. Poi dobbiamo finire necessariamente quelle strutture che sono state avviate dieci anni fa, quindici anni fa e che non sono state completate in quest'ultimo decennio. Mi riferisco all'Acqua Salfuria per la quale sono stati fatti degli interventi però purtroppo ancora non funziona come centro del mar, lo sappiamo tutti. Mi riferisco all'auditorium per il quale sembra che si sono stati già stanziati dai fondi ministeriali, al Paleolitico. Il Paleolitico è vero che è stato aperto al pubblico nel 2012 perché l'ho aperto più al pubblico effettivamente, a marzo 2012 però ancora necessita di una sala multimediale, di altri interventi. Insomma dobbiamo programmare delle cose in modo tale che la città di Sene possa effettivamente ripartire. Sull'altro fronte in uno suo comunicato Fratelli d'Italia replica parlando degli avversari come una cozzaglia elettorale di centrodestra e Cosmo Tedeschi comunica il passaggio di Irma Barbato e Gianluca Di Pasquale, consiglieri comunali della Lega, nel suo gruppo elettorale. Irma e Gianluca hanno deciso di sostenere direttamente con convinzione e impegno il mio programma che già conta del sostegno di Michele Eorio e di Fratelli d'Italia, ha detto Tedeschi. Infine Emilio Izzo, che ieri sera aveva infitato ad un confronto pubblico i tre candidati sindaci, si è presentato il solo Piero Castrataro che ha risposto alle domande illustrando il suo programma elettorale. Al confronto con Izzo è intervenuta anche Francesca Scarabbeo che ha spiegato il perché della sua rinuncia alla candidatura a sindaco.